Buongiorno, buongiorno, la tragedia di Santo Stefano di Cadore, la famiglia distrutta ieri alle 15.30 da un'auto che andava a folle velocità nel centro di un piccolo paese di montagna, 160 all'ora, un'auto guidata da una donna tedesca, tre morti, una strage spaventosa, sentiamo le interviste che ha raccolto questa mattina Tiziana Bolognani che era sul posto e con cui ci collegheremo in diretta tra pochissimo. So che lei ieri era proprio la funzione funebre che si stava celebrando in quei momenti, che se fosse accaduto un po' più in là probabilmente sarebbe stata, non lo so, una cosa? C'era un po' di più gente che girava, sì, sarebbe stata ancora più brutta di quella che è successo. Che cosa ha visto quando è arrivato qua? Niente, ho visto questi due corpi sotto le lenzuola che cercavano di rianimare questo bambino, che hanno provato di tutto, hanno provato quasi un'ora, ma purtroppo zero, non c'era niente da fare, una botta troppo forte. Ho chiesto anche a sua moglie un giudizio sulla velocità? È andato troppo veloce, andava troppo veloce, dopo non ci sono segni di frenata, non so cosa è successo di preciso, perché per fare un lavoro del genere se uno frena qualcosa riesce a risolvere, invece così neanche il palio non l'ha fermata. Si sono staccate le ruote, la macchina totalmente distrutta? Si è staccata la ruota con l'impatto nel palio, così nell'angolo di cemento, no, e ha continuato la macchina ancora a 50 metri, sai che vuol dire che non andava a piano. Di dove è lei signora? Io vivo in Germania, mio marito. E siete qua in vacanza anche voi? In vacanza mi abbiamo bucato a casa, viviamo lassù. Voi dove eravate ieri quando è successo voi? In casa abbiamo sentito un botto, siamo usciti e c'era praticamente, era già successo tutto, c'erano già i pompieri, c'erano i cadaveri in strada e questa macchina mezza distrutta, sì. Voi oggi avete pensato di portare un fiore, un pensiero? Sì, perché è chiaro che ti fa pensare. Non si può restare indifferente. È una tragedia, una tragedia. Siamo tutti scossi. Io non so cosa ha combinato questa, veramente. Penso che sia stata un po' fuori di mela perché è una roba di tutto genere. Perché parlano di 160 chilometri all'ora addirittura. e poi anche aveva fatto delle comedie via qua. Era vicino alla stalla di Fontana, ha detto che era fuori, urlava. E poi è partita. Sono anche vicini di paese, Favaro. Lei è veneziano? Sì, sì. Non ho parole, è una cosa tremenda. Vediamo il titolo del gazzettino con Tony Esposito che è in regia. C'è anche Francesca Pezzo. Tragedia in Cadore. Auto travolge la famiglia in vacanza e i morti sono tre. Il bambino di due anni, il papà, la nonna, è rimasta ferita la mamma che vediamo in questa fotografia. La guidatrice è arrestata, il cellulare è sequestrato. Il sospetto, come abbiamo detto anche ieri sera a Focus, è che stesse parlando al telefono o leggendo qualche messaggio. Altre possibili cause. Si è parlato di un possibile malore, di un comportamento imprudente che a volte purtroppo vediamo fare da molti comobilisti. chinarsi per raccogliere qualcosa. Insomma, ovviamente stanno indagando i carabinieri e bisognerà accertare quali sono state le cause. Ovviamente c'è la comunità in cui vivevano le vittime, questa famiglia distrutta, Favaro Veneto. Ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Favaro Veneto per la precisione in via Montecelo, dove vivono i genitori di Marco, una delle vittime, il papà del bimbo di due anni e marito di Elena, e dove Marco, tra l'altro, aveva anche la residenza che aveva appunto messo da poco. Prima aveva vissuto anni e anni fa per sei mesi a Marcon, dopodiché poi con Elena si sono trasferiti in realtà a Dese. Qui insieme a me c'è il presidente della Municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, che conosce entrambe le famiglie, sia quella di Marco che quella di Elena, i genitori di Elena che vivono invece nella zona di Cassolaro, sempre a Favaro Veneto. Ovviamente tutti i familiari, lo ricordiamo adesso, si trovano comunque in cadore. Sì, buongiorno direttore. Vogliamo esprimere il nostro cordoglio, le più sentite condoglianze alle famiglie di queste tre vittime innocenti che sono purtroppo morte ieri a causa di un evento tragico di cui non si vorrebbe mai sentire parlare. È un dolore che colpisce l'intera comunità di Favaro Veneto. Da ieri sera, quando l'abbiamo preso, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di annullare la festa della trebbiatura che si sarebbe dovuta tenere domenica prossima, proprio a Cassolaro, dove risiedeva la nonna del bimbo di due anni, Maria Grazia Zuin. Abbiamo ritenuto che non fosse certo il caso di fare festa, anzi, è il momento del dolore, del silenzio. Le parole purtroppo non bastano. Abbiamo anche, siamo a disposizione, mettiamo a disposizione, ci mettiamo a disposizione come istituzione, con l'amministrazione comunale per qualsiasi cosa fosse necessaria per quello che può valere. Abbiamo sentito indirettamente il papà di Marco, questa mattina, che purtroppo è sconvolto, stava piangendo e ci ha detto che fino a lunedì non potrà nemmeno vedere le salme delle tre vittime perché la giustizia, gli inquirenti dovranno fare delle indagini, insomma, quindi non è possibile nemmeno stabilire quando ci saranno i funerali, la data dei funerali. Ecco, veramente non ci sono parole, è una cosa che ci ha sconvolto tutti, siamo tutti molto scossi, anche perché Marco, per dire, aveva giocato nel calcio Favaro, era una famiglia che viveva qui nella nostra comunità di Favaro Vento, dove siamo, è vero, siamo in 25 mila, però ci conosciamo un po' tutti e quindi ci salutiamo, ci chiamiamo per nome, proprio è il nostro senso di appartenenza alla comunità che rende questa comunità speciale e a prendere notizie come questa è una cosa che ci ha veramente sconvolto. Ripeto, non ci sono parole, è un dolore immenso, una tragedia immane, anzi, un abbraccio alla famiglia perché di più non so cosa dire, francamente sono molto scosso anch'io, come tutti qui dall'altra parte. è vero che adesso bisognerà stabilire anche la dinamica dell'incidente, insomma la giustizia farà il suo corso perché tre persone in un colpo solo è una cosa inaudita, è una cosa pazzesca, io non so come possa essere successa una cosa del genere, veramente non ho parole, adesso la giustizia farà il proprio corso, ovviamente parlare adesso con il senso di poi non ha nemmeno senso perché tornare indietro non si può e probabilmente non lenisce nemmeno il dolore perché è un dolore che segnerà tutta la vita di queste persone e che ha colpito, ripeto, l'intera comunità di Favaro-Vento. Vogliamo stringerci attorno a queste famiglie che vivevano in parte a Cassolaro, in parte qui a Favaro e in parte ad Esa, ecco, e dirgli, dire per quello che può valere che gli siamo vicini. Ecco, infatti, proprio quello che anche noi abbiamo percepito qui questa mattina raccogliendo anche alcune testimonianze da parte di cittadini, di chi conosceva o la famiglia di Marco o quella di Elena, proprio il dolore diffuso proprio nella comunità, lo sconcerto per qualcuno, anche la rabbia per come hanno perso la vita, stavano passeggiando in montagna e sono stati completamente travolti. Dicevamo, due famiglie anche conosciute, soprattutto la famiglia di Elena, visto che sia Maria Grazia Zuin, che è la nonna ha perso la vita, sia Lucio Potente, lavoravano per l'Ulstre Serenissima e anche Elena è dipendente dell'Ulstre Serenissima. Infatti, l'avvicinanza anche da parte dell'azienda sanitaria è arrivata proprio in queste ore e anche tramite il direttore generale Edgardo Contato. Sì, beh, allora il padre di Elena, Lucio Potente, che tra l'altro era lì presente, faceva il portiere per il calcio favolo, poi anche in serie C2 per il maestre. La madre di Elena, Maria Grazia Zuin, apparteneva appunto con Lucio alla comunità di Cassolaro, dove c'è una bellissima comunità, non tanto numerosa, ma molto legata, dove si ritrova la domenica in chiesa e si sta tutti insieme. È stato da otto anni rinato l'oratorio di Cassolaro e quindi si mantengono le tradizioni di un tempo e proprio in virtù di queste tradizioni è stato preventivato di fare la festa della trebbiatura, ma ovviamente non la facciamo e ci sembra il minimo per rispetto nei confronti di queste famiglie. Comunque sì, a Cassolaro. Anche Marco, tra l'altro, era nel Favaro, giocava quando era piccolino? Anche Marco aveva giocato nel Favaro, poi penso che fosse andato a giocare a Iesolo. Il Favaro Calcio esiste nel 1948, quindi è una tappa dove sono passati più generazioni, molti giovani della nostra comunità e anche Marco aveva giocato col Favaro. Quindi erano persone che avevano fatto tutti i percorsi che facciamo noi della comunità di Favaro Veneto, quindi erano completamente integrate, gente per bene. Certo, certo. Ringrazio Marco Bellato della Municipalità di Favaro Veneto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie Laria Marchiori a Marco Bellato. Vediamo una testimonianza. Silvano Darina è stato il primo ad arrivare sulla scena di questa strage insieme al comandante dei carabinieri. Sentiamo cosa ha detto in una dichiarazione al gruppo Jedi. Sentiamo. La signora era morta. La signora era morta. Poi ormai gli altri erano... ...perattimento. Ma lei dove era? Io stavo entrando per entrare nella mia oficina, nel mio garage, cose ricinastiche. Il nonno, disperato, si doveva i capelli. Il nonno, disperato, si doveva i capelli. Lui mi ha infatti una famiglia. Ragazzino, siete con me? È morto, è morto. È morto. Il dono di corsa, la signora, purtroppo, era morta. E questa è una delle tante testimonianze. Adesso vediamo quella sconvolgente del nonno che ha assistito a quanto è accaduto, impotente, ha visto davanti ai suoi occhi morire la famiglia, la sua famiglia, il suo nipotino di due anni, il suo figlio. Vediamo il servizio. Lei è il nonno? Il nonno di Mattia, il papà di Marco. Lei è il signor Potente? Il signor Antonello, il papà di Marco. Antonello, il papà di Marco. È un momento... È un momento talmente grande, talmente un disastro che non riesci a capacitarti di come sia potuto succedere. in un periodo di vacanze che dovrebbe essere gioioso e lasciarci la vita così. Non lo so. Un disastro, un disastro. Voi eravate qui tutti in vacanza, in famiglia? Io no, io ero a casa a Mestre. C'erano i consuoceri qua. E allora, siccome hanno preso la casa per un mese, hanno detto venite anche voi, portate il bambino, si cambia un po' d'arte. E sono venuti, è sabato e dovevano tornare giù domenica. Invece purtroppo, niente. E io sono venuto solo per dargli, per venire a vedere dove mi hanno ammazzato mio figlio e mio nipote. Il suo consuocero come sta? Il mio consuocero è scosso. È molto scosso perché giustamente lui ha assistito a... assistito alla scena. E per lui è stato ancora più... Poi ha perso la moglie, ha perso il nipotino. Cosa possiamo dire? Cosa possiamo dire? La donna che era al volante di quell'auto è stata arrestata ieri sera? Così, almeno, hanno detto i carabinieri. Più di quello, però i carabinieri non ci hanno detto. Sono ancora in corso intaggini e le cose. Sono in stato di fermo e stanno facendo le intaggini, le verifiche e vedere cosa... Cosa ne viene fuori? Una cosa, un dolore grandissimo. E come si fa? Come si fa, esatto. Ho un figlio. Perdere un figlio giovane e un nipotino che l'abbiamo cresciuto noi. Ha vissuto con noi, era con noi. Era la nostra forza. Questo era il nonno di Marco Antoniello, 48 anni, che lascia altri tre figli, che ha perso il bambino di due anni. Il nonno di Mattia. Il consuocero è quello che ha assistito alla tragedia in cui è morta la nonna. Quindi la moglie del consuocero. Ci colleghiamo adesso con Tiziana Bolognani, che è inviata da ieri a Santo Stefano di Cadore, che ha raccolto tutte le testimonianze. Tiziana, ho già mandato in onda le interviste ai residenti. Ovviamente ti cedo subito la linea. Sì, grazie direttore. Buongiorno. Buongiorno a te. Devo essere onesta. È stata, credo, una delle cose più difficili di questa giornata sentire, avvicinare il nonno del piccolo Mattia. sentire il suo dolore che ha trasmesso addosso a noi, a me, a Stefano Bozzi, che mi segue per la parte tecnica. Chi in questo momento, sin dalle prime ore di questa mattina, qui in via, in questo tratto di via Udine, dove ieri è accaduta la tragedia, si sta avvicinando per deporre un mazzo di fiori, per ricordare il piccolo. Ci sono dei peluche più o meno grandi, ci sono dei lumini, c'è il messaggio di cordoglio vicino ad un mazzo di stelle alpine dell'amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore, che si dice vicina alla famiglia. È un dolore che chiaramente non si può spiegare. Santo Stefano di Cadore è attonita, si è risvegliata attonita, completamente sotto shock. Qui in paese già si parla e si chiede il luto cittadino perché una tragedia del genere, una strage del genere, qui a memoria non era mai accaduta. Ci sono stati lungo questa strada incidenti più o meno gravi, ma certamente quello di ieri resterà negli annali delle disgrazie che hanno scosso in maniera profondissima la provincia di Belluno e la comunità di Santo Stefano e di tutto il Comelico. Assieme a me c'è Fabio. Fabio è un vigile del fuoco che presta servizio qui in Comelico e che ieri è stato tra i primi ad arrivare qui, nel luogo dell'incidente e a soccorrere le persone che sono state travolte. Fabio, quando lei è arrivato qui, a parte è arrivata la chiamata, no? E sapevate che in questo incidente c'era coinvolto anche un bambino, lei e papà. Oggi con il suo figlio lei è venuto qua. Sì, noi siamo venuti a portare un fiore perché dal genitore mi sono sentito in dovere di portare un presente qua oggi. Ieri quando siamo usciti, un incidente con un bambino coinvolto, la paura è sempre quella di... Abbiamo un bambino che va in giro per il paese, a scuola, al centro estivo tutti i giorni, quindi sappiamo la criticità del tratto, sappiamo che voi non vuoi che le macchine corrono, più o meno, marcia a piedi, non marcia a piedi, tutto molto... L'avete visto anche voi, insomma. E quindi uno ha sempre questa paura quando siamo arrivati... Potremmo dire domandarvi esatto che cosa avete trovato quando siete arrivati. Sì, c'era uno scenario incidentale gravissimo con tre persone coinvolte, tra cui un bambino di due anni, che è una cosa che ci ha affranto tutti, purtroppo ho cercato di fare tutto quello che si poteva per... E dopo sappiamo le conseguenze, insomma, di quello che è stato, purtroppo... Ieri nell'immediatezza assieme a voi è arrivato l'elicottero del SUEM, sono arrivate l'ambulanza, l'automedica, i carabinieri, voi in forza. Questo strato di strada è stato chiuso al traffico, tutta l'area è stata isolata per consentire a voi e alle forze dell'ordine di svolgere i rilievi, di avere anche questo difficile compito di ricomporre i cadaveri e di procedere al loro trasporto nella camera mortuaria. Una strage che certamente poteva capitare, lei ha detto, a chiunque che è inutile parlare di dissuasori, autovelox, messaggi variabili per la velocità. Chi passa, chi transita qui, ed è un po' la denuncia anche dei cittadini di Santo Stefano di Cadore, chi passa lungo questo tratto di strada, che è un grande rettilineo, vedete, alle nostre spalle, giù in fondo c'è la chiesa principale di Santo Stefano, ieri si stava celebrando un funerale, questa è la strada regionale 355 della Valdegano che conduce a Sappada. Questo è un tratto di strada che evidentemente è dritto, è in vita alla velocità e sicuramente la velocità potrebbe essere stata la causa della strage, sicuramente l'automobilista che era alla guida dell'Audi probabilmente potrebbe essersi distratta con il telefonino, i carabinieri lo stanno esaminando, stanno esaminando il telefonino che è in possesso della donna, che era di proprietà della donna, per verificare se in quei momenti il telefono fosse stato operativo. Lei ieri sera, dopo essere stata sottoposta in stato di fermo, è stata arrestata e portata in carcere. L'accusa per lei in questo momento, quella ipotizzata dalla Procura della Repubblica di Belluno, è di omicidio stradale plurimo. Fabio, tante volte a voi è richiesto di intervenire in luoghi di incidenti, per tragedie più o meno grandi. Quella di ieri a memoria sicuramente è quella più grave che sia accaduta e che le sia accaduta. Guardi, uno scenario incidentale di solito sono quelli proprio dove tu vedi le cose più toccanti, brutte, chiamiamole come vogliamo e se ci coinvolge un bambino a mia memoria sicuramente è stato l'intervento più difficile da portare a termine. Dopo si fa fatica a dire qualsiasi altra cosa purtroppo in questo momento. La ringrazio perché la vedo ancora scosso e comprendiamo chiaramente anche qual è la difficoltà di vivere i momenti che sono professionali in cui bisogna avere grande e estrema lucidità e poi subire il contraccolpo nelle ore immediatamente successive per immagini che certamente nessuno vorrebbe mai vedere, non ci si vorrebbe mai trovare di fronte a situazioni gravi come questa. Direttore. Tiziana, intanto grazie per questi aggiornamenti, per il lavoro che avete svolto insieme a Stefano Bozzi. Ieri uno dei particolari che ha colpito molto è stato quello di una donna, di questa donna appena uscita dall'auto con cui aveva compiuto questa strage, inveire contro i cadaveri. Era in uno stato di agitazione che è sospetto in questi casi, che può essere determinato dallo shock ma anche dall'uso di sostanze che frequentemente vengono riscontrate quando ci sono incidenti. Non si sa nulla, quali sono le ipotesi? Hai già fatto riferimento prima all'uso del cellulare, hai saputo dell'altro sulle possibili cause dell'incidente? Sì, noi abbiamo saputo, ma ancora questa notizia non è stata confermata ufficialmente, che gli esami tossicologici relativamente ai test alcolemici avrebbero dato esito negativo. Non sappiamo invece nulla perché probabilmente richiedono accertamenti più lunghi in termini di tempo riguardo le sostanze tossiche e quindi all'eventuale presenza di sostanze stupefacenti nel sangue di questa 32enne. Certo, come ricordavi giustamente tu, i testimoni, le persone che si sono affacciate ieri pomeriggio dopo aver sentito un boato tremendo, praticamente un frastuono che ha portato tutti immediatamente ad affacciarsi ai balconi e ha portato anche le persone che stavano sul sagrato della chiesa a precipitarsi nelle immediate vicinanze del luogo dell'incidente perché non si era capito proprio che cosa fosse accaduto. Sì, dicono così i testimoni, dicono che questa donna quando è uscita dalla sua auto, ha riportato delle lesioni, è stata portata poi al pronto soccorso dell'ospedale di Pieve di Cadore, avesse iniziato a inveire, non sappiamo per la verità, se contro le vittime, però certamente non avrebbe avuto un comportamento, un atteggiamento pacato. Ecco, questo è quello che ci hanno riferito i testimoni. Una domanda sulla... questa è una donna di nazionalità tedesca, 32 anni, la targa dell'auto è italiana, si sa nulla da dove arrivasse, dove vivesse, se era del luogo, abbiamo qualche notizia a riguardo? No, purtroppo ancora sulla donna non si sa nulla, non si sa neppure, vista anche la giovanissima età, se questa donna abitasse anche nelle vicinanze. Nelle vicinanze, perché poco distante da qui c'è il confine con l'Austria, e quindi questo è anche un luogo ampiamente frequentato da cittadini austriaci stranieri che transitano lungo questa strada. Questo ancora non ci è dato di sapere, perché c'è un riservo massimo sulle indagini imposto dalla Procura della Repubblica di Belluno, che ha semplicemente confermato il fatto che questa donna è stata arrestata e portata in carcere a Belluno dopo aver svolto gli accertamenti del caso. Tiziana, grazie molto. Questo è quanto mi posso riferire fino adesso. Grazie, grazie a voi. Tiziana Bolognani, da Santo Stefano di Cadore a Stefano Bozzi, nostro operatore. Vediamo altri titoli con cui i giornali locali hanno raccontato questa tragedia. Santo Stefano di Cadore, questo è il Corriere del Veneto, famiglia travolta da un'auto, il nonno è omicidio, io salvo perché camminavo dietro. Questo è il nonno, non quello che abbiamo intervistato, che è il padre di Marco Antoniello, ma il signor Lucio Potente che è sopravvissuto all'incidente in cui sono morti. La moglie, il genero e il nipotino. La figlia in ospedale è disperata, le hanno tolto gli affetti più cari. La figlia è ovviamente la mamma del bambino, la moglie di Marco Antoniello, che si è fortunatamente salvata. Altro titolo lo vediamo subito, non ce l'ho più, ma lo vedremo dopo. Chiudiamo qui la pagina della strage di Santo Stefano di Cadore. Passiamo, andiamo ad altra cronaca. C'è stato un dramma ieri pomeriggio a Correzzola, provincia di Padova, dove dalle acque del fiume Bacchiglione ha riaffiorato il corpo senza vita di un uomo a servizio di Valentina Visentino. Non è ancora stato identificato il corpo senza vita riaffiorato ieri dalle acque del fiume Bacchiglione a Correzzola. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un uomo apparentemente di mezza età a dare l'allarme intorno alle 17.30 di ieri alcuni passanti che hanno notato il cadavere galleggiare nel tratto di fiume tra Correzzola e la frazione di Brenta Dabba. Sul posto è intervenuta la squadra sommozzatori dei vigili del fuoco che ha recuperato il corpo esanime poco lontano dal luogo dell'avvistamento. Immediatamente sono scattate le indagini per capire le cause del decesso e cercare di identificare il corpo senza vita. Potrebbe trattarsi di un uomo originario del Polesine. La salma è stata ricomposta e affidata all'autorità giudiziaria. In giornata potrebbe essere disposta l'autopsia. E c'è stata un'altra ondata di maltempo. C'è una instabilità con grande caldo e poi subito dopo piogge. Il maltempo ha lasciato il segno nelle campagne della bassa padovana. Ieri i danni maggiori a Borgo Veneto. Il sindaco ha già scritto alla regione per avere degli aiuti. Vediamo. Danni ingenti provocati da meno di mezz'ora di pioggia fortissima e grandi nella campagna di Borgo Veneto è stata flagellata dalla violenta acquazzone che ieri si è abbattuto nella zona del Montagnanese. Gli allagamenti hanno interessato i campi di mais, soia e tabacco. In piena fase di fioritura si stimano perdite del 25%. Il sindaco di Borgo Veneto ha chiesto lo stato di calamità. Abbiamo chiesto lo stato di calamità. Abbiamo chiesto alla regione il farsi carico di eventuali richieste che dovessero pervenire dai privati e anche dal patrimonio pubblico e qualora la regione riconoscesse che è stato un evento straordinario. Purtroppo qui nella zona nostra viene abbastanza di frequente. È successo anche lo scorso 25 aprile sempre nella zona però a sud di Borgo Veneto. In questo caso i danni sono stati ingenti soprattutto alle culture e anche parte al patrimonio pubblico. I danni si sono concentrati lungo l'asta del fiume Frassine, quella già interessata dall'alluvione del 2010. Ad aprile i temporali avevano già messo a dura prova le culture. Stiamo proprio in questo momento, in queste ore con gli uffici e ci stiamo un attimo interagendo anche con le associazioni di categoria che ovviamente sono quelle che sul territorio rappresentano la maggior parte degli agricoltori che si adoperano per rendere più viro la cultura del nostro territorio. Non ho un dato preciso però soprattutto per quanto riguarda le perturbazioni di tabacco i danni sono veramente importanti. Mentre la soia potrebbe magari nelle prossime settimane riprendere, ma il tabacco è un'area molto estesa. La pioggia e la grandine hanno danneggiato alcuni lampioni e centraline elettriche del paese. Nel giardino della scuola dell'infanzia sono caduti alcuni rami che hanno strappato i fili dell'Enel, lasciando la scuola dell'infanzia senza corrente. Le intense precipitazioni provocano ovviamente dei dissesti idrogeologici, tra questi le frane. Ce n'è stata una nel Vicentino a Recoaro. Sentiamo Carlo Alberto Inghilleri. Recoaro Terme, frane in via Arriposo, località Corneletti. Lo smottamento della roccia interrompe la strada. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. I vigili del fuoco arrivati da Schio effettuano un sopralluogo. C'è un fronte di tre metri di detriti e massi che bloccano il traffico. Via Arriposo viene momentaneamente chiusa fino alla rimozione della frane e alla messa in sicurezza del fronte. Sul posto la polizia locale e i tecnici del comune. I pompieri hanno lavorato tre ore. La strada dovrebbe essere riaperta in giornata. Questo era Carlo Alberto Inghilleri da Recoaro. C'è stato un incendio che ha interessato i magazzini del Lago Film Festival a Revine. Ingentissimi i danni, ma i volontari vogliono andare avanti e confermano la rassegna prevista per fine luglio. È già iniziata una gara di solidarietà. Non preoccupatevi, il Lago Film Fest ci sarà. Abbiamo aspirato la tragedia, fortunatamente i pompieri sono stati velocissimi, sono riusciti a contenere le fiamme e a spegnere l'incendio in tempo record. Pompieri di Vittorio Veneto e Conegliano che stanno ancora accertando le cause dell'incendio che ha coinvolto uno dei magazzini utilizzati dall'organizzazione del Lago Film Festival negli spazi dell'ex municipio. Probabile un cortocircuito. Nessuna persona è rimasta però coinvolta, ma i danni sono ingenti. 200, per esempio, le sedie colorate di design distrutte dalle fiamme e diventate nel tempo uno dei simboli della rassegna. Abbiamo perso, ahimè, moltissimi dei nostri materiali per gli allestimenti, le sedie, materiali per l'ospitalità che abbiamo archiviato negli anni e costruito in questi ultimi 20 anni. Ma noi non molliamo e continuiamo ad essere presenti. Il festival, indipendente di cinema, diventato tra i principali d'Italia ed Europa, comunque si terrà dal 21 al 29 luglio. Già infatti si è messa in moto una gara di solidarietà. Un'azienda del territorio ha messo a disposizione dei materassi per accogliere i volontari. L'appello dei giovani organizzatori è però generale. Il miglior modo per sostenere il festival è partecipare, perché la partecipazione del pubblico è veramente il piastro fondamentale su cui si sostiene tutto il festival. Grazie infinite, ci vediamo tra pochissimo. E c'è stato uno spaventoso incendio a Milano, vediamo il Corriere della Sera, in una casa di riposo. Ci sono sei morti, due feriti gravi. Il rogo è partito da un letto, le sirene, i soccorsi, i vetri rotti. Sul Corriere della Sera anche le immagini di questo disastro. Torniamo in Veneto, resta alto l'allarme per la movida violenta a Venezia, dopo l'accoltellamento e il pestaggio di sabato notte a Rialto. Il Comune di Venezia ha chiesto la collaborazione dei locali, ma le opposizioni puntano il dito sulla mancanza di controlli. L'indagine per lesioni è aperta e i responsabili del pestaggio con accoltellamento in campo Bella Vienna in corso di identificazione. Per ora resta il bilancio di due feriti, entrambi militari statunitensi, un 22enne accoltellato alla schiena e ancora ricoverato all'ospedale e un 24enne pestato a sangue con diverse lesioni da un gruppo composto da una decina di persone. Diciamo che dopo l'intervento della polizia massiccio su Santa Margherita ha risolto il problema dello spaccio, un po' queste persone si sono spostate nella zona rialtina. È un problema che sta gestendo la polizia e quindi noi siamo a cercare di aiutare le operazioni. Non è il primo accoltellamento di quest'anno nella movida di Rialto. Qualche mese fa era toccato all'addetto al servizio d'ordine di un locale, mentre appena la settimana scorsa una ragazza letteralmente presa abbastonati assieme al fidanzato aveva rimediato un trauma cranico con 5 punti di sutura. Questo filmato, girato l'estate scorsa, rappresenta una testimonianza di ciò che può accadere il sabato sera nel cuore di Venezia. Ogni volta questa amministrazione continua a dichiarare che ha assunto nuovi vigili, che c'è più sicurezza, ma in realtà la città, non solo la terraferma che abbiamo visto in questi anni dove è aumentato lo spaccio, la violenza, eccetera, ma anche la città d'acqua che invece fino ad ora è sempre stato un luogo tranquillo insomma e senza questi episodi. A lotta ai disordini al bacano notturno, secondo il Comune deve passare anche attraverso la collaborazione attiva degli esercenti dei locali della movida. Quello che noi vogliamo fare è cercare di responsabilizzare le attività con l'utilizzo dei buttafuori privati. Questo patto deve essere un patto che funziona. Se non funziona interveniamo noi con le chiusure anticipate. Cosa che non vogliamo fare, noi proviamo insomma a trovare la soluzione mediana. Sarà estradato in Italia il camionista tedesco che travolse uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin. La moglie ha detto non si è pentito, non ha espresso nessuna parola di rammarico e quindi merita di essere punito. Sentiamo cosa ci dice Luisa Bertini. Sarà estradato in Italia l'autotrasportatore tedesco accusato di aver investito e ucciso Davide Rebellin lo scorso 30 novembre a Montebello Vicentino mentre il campione di ciclismo si stava allenando in bici e venne travolto dall'auto articolato nella rotonda lungo la regionale 11. Il tribunale di Ham ha dato il via libera alla richiesta della procura di Vicenza concedendo l'estradizione per il 62enne Wolfgang Rieck accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. A giugno la polizia tedesca aveva dato esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vicenza mandato emesso in seguito all'ordinanza con la quale il giudice su richiesta della procura berica aveva disposto nei confronti di Rieck la misura cautelare di custodia in carcere. Il camionista era stato poi scarcerato nei giorni successivi e il giudice del tribunale tedesco gli aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione settimanale alla polizia giudiziaria. Adesso il via libera del tribunale tedesco all'estradizione in Italia. In un primo momento il giudice tedesco aveva posto in carcere in Germania Wolfgang Rieck per poi porlo provvisoriamente in libertà con obbligo di firma in attesa della decisione sulla consegna decisione che appunto è pervenuta in questi giorni. Ora il camionista verrà condotto in Italia verrà condotto presso il carcere di Vicenza e a quel punto potrà richiedere tramite i suoi difensori una misura alternativa al carcere. E purtroppo non c'è fine agli incidenti stradali agli incidenti stradali in Veneto e ancora in gravi condizioni il quindicenne che è rimasto ferito in uno scontro tra un tir e un'auto. Vediamo. Ah scusate, chiedo scusa alla regia. Eccolo qua. Un quindicenne è rimasto gravemente ferito in uno scontro frontale avvenuto in tarda mattinata a Fosso al confine con Campo Verardo, frazione di Campo Nogara. Era a bordo dell'auto guidata dal nonno che forse a causa di un malore avrebbe sbandato scontrandosi con un camion che trasportava merci. In auto c'era anche un'altra nipote. Il quindicenne è stato portato via con l'elisoccorso nell'ospedale di Padova mentre gli altri feriti sono stati assistiti dalle ambulanze giunte sul posto. I mezzi sono stati sequestrati dalla polizia locale che sta ricostruendo la dinamica. Sul posto anche i vigili del fuoco intervenuti per liberare i passeggeri dalle lamiere. La strada, attenuta non ottimale per la pioggia, è anche leggermente in discesa quindi questo potrebbe aver complicato ulteriormente la situazione. Il futuro dei lavoratori delle società che hanno realizzato il MOSE di Venezia al centro di un vertice in prefettura nella città lagunare a preoccupare le conseguenze di una possibile fusione tra CVM e Comar e della messa sul mercato di Tetis. Il prefetto si è impegnato a interessare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono lavoratori che appunto rischiano un periodo di forte instabilità. Vediamo. Quanti posti di lavoro sono in balu? Sono 200 posti di lavoro tra le tre società. L'età media è circa 50 anni di età, la media, e quindi siamo ovviamente troppo giovani per la pensione e siamo troppo vecchi per essere immessi sul mercato del lavoro. In presidio in Campo San Maurizio, a due passi dalla prefettura, i lavoratori del sistema Mose attendono rassicurazioni sul proprio futuro lavorativo dopo le notizie sull'incorporazione di Comar nel Consorzio Venezia Nuova e la cessione sul mercato di Tetis. Abbiamo fatto una richiesta di incontro nel marzo di quest'anno al Ministero dei Trasporti, al Ministro Salvini, richiesta alla quale non vi è stata nessuna risposta, nessun riscontro e per questo siamo giunti ad oggi alla richiesta e all'incontro con la prefettura. I rappresentanti sindacali escono dalla prefettura dopo un vertice col prefetto Michele Di Bari, cui hanno partecipato tra gli altri il commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova Massimo Miani e il commissario straordinario del Mose Elisabetta Spiz. C'è la disponibilità che riteniamo importantissima del prefetto di tenere un tavolo permanente aperto e fondamentale è la decisione del prefetto di diventare interlocutore primario anche nei confronti del Ministero dei Trasporti, che è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Questo vuol dire che la scelta di rivolgersi alla prefettura di chiedere un confronto trasparente sul futuro di 224 lavoratori, sul fatto che Tetis non può essere svenduta e sul fatto che ci deve essere chiarezza sull'incorporazione di Comar è all'attenzione del prefetto e speriamo finalmente all'attenzione del governo. Sevesse di Filippo Foi, se ieri i nostri colleghi di Padova hanno cercato di affittare una abitazione, hanno fatto una prova, hanno chiamato delle immobiliari, non ci sono casi in affitto a Padova, ma neanche in altre città del Veneto ed è un vero dramma per tante famiglie perché i prezzi sono altissimi, le abitazioni in affitto sono poche, c'è la questione degli sfratti. Lina Paronetto è a Treviso, se ne è parlato oggi in un convegno della CGL, a te la linea Lina. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, siamo qui in sede CGL perché Nidil CGL con la segretaria generale Rossana Caredo e molti altri attori hanno voluto mettere insieme diversi soggetti per parlare di emergenza a casa. C'è stata questa tavola rotonda che si è conclusa da pochissimo. Vedete accanto a me anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, il presidente di ATER, Mauro D'Alzilio perché appunto ci si è voluti confrontare con tutti quelli che possono avere voce in capitolo sul tema del abitare precario. L'avete chiamato così perché purtroppo anche a Treviso c'è questa emergenza. Allora già questo è un buon viatico, non mettere insieme tutti. Innanzitutto perché il tema è caldissimo. Sì, l'obiettivo appunto era quello trovare di iniziare da un punto di partenza per poi mettere a terra quelli che sono gli obiettivi quindi di migliorare la condizione abitativa delle persone che abitano in provincia di Treviso e incrociarli con quelle che è l'emergenza reddituale. Riuscire quindi ad avere un coro di voci che poi possano trovarsi in un secondo momento per riuscire appunto ad avere delle linee guida e di intervenire effettivamente su quello che è il problema. Anche perché lavorare e non riuscire comunque percependo uno stipendio a pagarsi un affitto è una situazione gravissima. Esatto stiamo assistendo di fatto a un cambiamento del concetto di emergenza abitativa mentre prima il concetto di emergenza abitativa era legato a situazioni molto particolari e molto tra virgolette estreme adesso se vogliamo il concetto di emergenza abitativa è un concetto più dilatato più presente all'interno della società perché viene trascinato dall'emergenza reddituale quindi dai redditi molto bassi. ATER viene chiamato naturalmente sempre in causa su questo fronte essendo l'ente dell'edilizia popolare ci sono numeri significativi in termini di arretrati purtroppo ci sono anche dei canoni in provincia di Treviso piuttosto elevati ma sicuramente motivati dagli alloggi che vengono assegnati qual è la situazione? Sicuramente non alloggi di edilizia residenziale pubblica con canoni elevati perché noi seguiamo quella che è la legge 39 partiamo da un minimo di 40 euro e in su a seconda dell'ISED una persona che presenta ogni anno quindi il problema ad avviso nostro non è sicuramente quello che è il canone ma il caro energia ed è proprio per questo che ATER sta cercando di intervenire con tutti gli strumenti possibili quello che è il PNRR quello che è il 110 quello che sono tante altre cose per efficientare e rendere i nostri edifici più accattivanti a livello energetico Avete molti progetti in corso e cantieri in corso ma uno dei temi ricorrenti è quello di mettere sempre più a disposizione alloggi che magari sono in questo momento fermi, vuoti non utilizzati perché non ancora ristrutturati Certo noi proprio sul bilancio 2022 che abbiamo presentato abbiamo relazionato alla conferenza dei sindaci abbiamo fatto notare che sulla voce per i riatti abbiamo aumentato di un milione di euro perché dai 700 mila euro del 2021 siamo passati al milione e 8 per il 2022 e stessa cifra è stata garantita per il 2023 quindi il nostro obiettivo è quello di ridurre il più possibile quelli che sono gli alloggi fermi per poterli mettere a disposizione dei sindaci che tanto ce lo chiedono ecco chiudiamo con il sindaco di Treviso Mario Conte proprio perché anche da questo palco ha lanciato come presidente Anci Veneto il tema di un nuovo piano casa di cui c'è necessità e questa proposta ha raccolto l'interesse di tutti i soggetti si diciamo che a livello nazionale gli immobili destinati agli alloggi popolari rappresentano il 3% del patrimonio immobiliare nazionale che è una percentuale che sfiora è la metà rispetto alla media europea addirittura nei paesi del nord si arriva al 20-30% oggi c'è il tema del PNRR che è una grande opportunità e uno dei timori è quello di non avere la capacità di investire tutte queste risorse ecco proprio ieri in occasione di Missione Italia i sindaci hanno lanciato questa proposta di un nuovo piano casa l'ultimo risale agli anni 60 con Fanfani e quindi oggi ci sarebbero le condizioni per un nuovo piano casa che ci darebbe la possibilità di investire queste risorse di dar risposte alle esigenze sociali delle nostre comunità e anche di abbattere i costi energetici con dei fabbricati riqualificati o nuovi che possano essere meno energivoli rispetto a quei fabbricati che oggi caratterizzano le nostre comunità dove a fronte magari di un affitto di 80-90 euro poi ci sono spese condominali che rischiano di sfiorare i 500 euro diventando inaccessibile e inutilizzabile ecco questa è la proposta dunque dei sindaci ma poi nei servizi di questa sera renderemo conto anche di quelli che sono suggerimenti invece sul breve periodo per cercare di allentare questa tensione intanto dalla sede CGL direttore ti restituiamo la linea grazie grazie molto a Lina Paronetto e ai suoi ospiti avete sentito il sindaco Conte giustamente ricordava l'ultimo piano casa in questo paese risale ai tempi di Amintore Fanfani ex presidente di consiglio quindi parliamo degli anni 60 immaginatevi un po' sciopero nazionale unitario dei metalmeccanici ci sono presidi in tutto il Padovano sentiamo Valentina Visentin sciopero nazionale dei metalmeccanici sciopero unitario 4 ore di sciopero nazionale per il rilancio industriale l'occupazione degli investimenti la transizione sostenibile per risolvere le crisi aperte adesione importante anche a Padova per lo sciopero dei metalmeccanici indetto a livello nazionale per puntare l'attenzione sull'industria metalmeccanica messa in difficoltà dal caro prezzo delle materie prime della concorrenza internazionale che deve essere ripensata alla luce del processo di transizione ecologica nella provincia di Padova sono oltre 200 le assemblee organizzate dei lavoratori nelle scorse settimane oggi invece i presidi sono stati organizzati davanti ad alcune aziende a Mestrino Campodarsego Este Conselve e Caselle di Selvazzano abbiamo bisogno di capire che cosa succede a livello europeo abbiamo bisogno di capire con la contrattazione cosa facciamo perché abbiamo bisogno di un lavoro stabile e di livelli di energia stabile perché tante aziende fanno dei preventivi allo scoperto senza sapere poi cosa costerà effettivamente produrre il mondo metalmeccanico è molto variegato nella provincia di Padova dove si contano 50.000 addetti dell'industria e della piccola industria L'occupazione femminile è fortemente messa in discussione perché le attività manufatturiere più strette sono quelle che mettono in discussione l'occupazione femminile poi in più noi in questo momento abbiamo diversi settori diversi appalti all'interno anche delle aziende il fatto che possono essere razionalizzate poco internalizzate le attività ma semmai messi in discussione delle attività nel complesso tutti questi fenomeni sono presenti moltissimo nel tessuto dell'industria paduano I sindacati chiedono al governo di non frenare la contrattazione con le aziende per cercare di portare a casa nuovi aumenti vista l'inflazione sempre più alta e poi deve essere centrale il tema della transizione ecologica La transizione è uno dei punti a cui noi non possiamo prescindere è già in corso la stiamo già vivendo la dobbiamo governare e per governarla dobbiamo avere la partecipazione chiara di una leva sia politica sia degli industriali e non lasciare al libero mercato che decida Tanta cronaca sindacale in questa edizione di Focus Tg 8 ore di sciopero sono state proclamate dalla zeppa di Pianezze San Lorenzo azienda metalmeccanica che occupa un centinaio di lavoratori temono la chiusura di un reparto di lavorazione ci colleghiamo in diretta con Vanessa Banzato Buongiorno ci troviamo davanti ai cancelli dell'azienda meccanica a zeppa del gruppo TACA siamo a Pianezze sciopero in corso perché allora abbiamo accanto a noi due esponenti sindacali Simone Fontana dell'RSU Fim Cisle ci vuole spiegare Fontana perché questo sciopero oggi sì all'inizio del mese è arrivata la direzione dalla madre Tecca e ci hanno comunicato che in pratica hanno deciso di chiudere il reparto stampaggio delle presse localizzare i vari dipendenti tenendoli non licenziando chiaramente ma localizzarli nei vari reparti dell'azienda e ovviamente questo oggi facciamo sciopero per dare un segnale quattro ore dare questo un famoso segnale che noi siamo contrari perché dare una chiusura di un reparto dal lunedì al venerdì senza trattativa senza niente con un no secco a noi non ci sta bene vorremmo dare questo segnale alla casa madre e cercare di far capire che ovviamente il prodotto deve stare in Italia perché dice deve stare in Italia perché il reparto rischia di essere spostato si viene localizzato in Turchia come sta accadendo in varie aziende purtroppo i costi danneggiano e loro guardano ovviamente i costi ringraziamo intanto l'azienda Zeba perché stanno cercando tutti i modi di far capire alla casa madre Teca che stanno facendo un grosso sbaglio grazie ovviamente a Massimiliano Di Francesco e a Michael Costacurta che stanno dando dei report costanti ovviamente fra due settimane Aydin Cusalti arriverà in Italia per avere altri report da parte della Zeppa e lì ci saranno altre successive ovviamente trattative che noi come Finfionbill continueremo a battagliare fino a che potremo anche se all'inizio della settimana Aydin Cusalti ha dato proprio la domanda è proprio deciso di chiudere il reparto sì chiuso Antonella Zammillo dei nostri colleghi del reparto press perché oggi è toccato a loro ma domani potrebbe toccare a noi questo io lo definisco l'inizio di una fine di un brutto periodo insomma c'è molta paura da parte vostra tantissima da parte dei colleghi infatti la dimostrazione è quella che oggi siamo tutti qui presenti veramente tutti è stato veramente un bel segno da parte di tutti quanti un segno unitario anche a livello proprio sindacale sì adesso faccio fare una cosa tutti siamo tutti uniti sì avete sentito molta molta la paura da parte di questi dipendenti di perdere il loro posto di lavoro in un'azienda che rende rende bene in un territorio in questo territorio nello specifico se ci saranno aggiornamenti io vi richiederò nuovamente la linea intanto cedo la linea allo studio grazie a Vanessa Banzato e ai lavoratori di quella azienda andiamo a vedere cosa succede alla Safilo dopo la mobilitazione dei lavoratori da diversi mesi a questa parte per la possibilità della chiusura di uno degli stabilimenti di Longarone pare che ci siano delle trattative in corso e c'è un cauto ottimismo vediamo è stato fatto un ulteriore passo in avanti abbiamo un nuovo compratore in più oltre a Teglio se questo è sicuramente positivo ora aspettiamo di vedere il piano industriale prima di cantare vittoria definitivamente su Safilo il cielo non è ancora sgombro di nuvole pur se sembrano meno dense e nere di qualche settimana fa l'annuncio della società che ieri si è detta pronta a chiudere la cessione entro la fine del mese è stato accolto con moderato ottimismo due trattative parallele la prima con Teglios che lavora per le Maison del Colosso Elve e Mash interessata a rilevare Safilo 1 e 250 dei 458 lavoratori la seconda con l'imprenditore Carlo Fulchir l'uomo che da un piccolo laboratorio improvvisato scalò l'imperio della finanza internazionale alla guida di Finme che è il più grande gruppo italiano dell'elettronica prima di cadere nel crack da un miliardo che gli causò seri guai giudiziari nel 2007 Fulchir interverrebbe nell'operazione rilevando i restanti 208 dipendenti attraverso la società Innovatec specializzata in contesti di reindustrializzazione e non con la eVision Tech dei suoi tre figli che nell'ottobre 2020 rilevarono proprio da Safilo lo stabilimento di Martignaco e che oggi sono terzisti di Telios non è secondaria la questione della serietà della proposta dobbiamo iniziare le interlocuzioni con l'imprenditore Carlo Fulchir per capire esattamente qual è il progetto industriale che vuole intraprendere a Longarone perché mentre con Telios la situazione appare chiara ai sindacati già presenti nell'azienda che dista poche decine di metri da Safilo a Longarone da Fulchir le parti sociali si aspettano chiarimenti sul futuro dei lavoratori dello stabilimento e degli investimenti che intenderà fare per noi sarà importante anche che la regione Veneto faccia la sua parte perché se in questo tavolo si sta risolvendo la crisi in quel tavolo vanno verificate le serietà delle proposte da parte degli imprenditori che intendono rilevare Safilo la regione si è resa disponibile a favorire questo primo confronto fra le parti sociali e l'azienda già nei prossimi giorni contestualmente è prevista anche la riunione del comitato di sorveglianza socio-istituzionale a Longarone è stato un percorso lungo complesso stiamo cominciando a vedere la luce grazie a un lavoro di squadra coordinato dall'assessore regionale Donazzan che tutto sommato secondo me sta portando dei risultati che mi auguro possano diventare i risultati che tutti speriamo e quindi a quel punto la sì potremo festeggiare Dopo questa ampia pagina di cronaca sindacale andiamo in pubblicità però prima vediamo i titoli del gazzettino la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione telegiornale la tragedia a Santo Stefano di Cadore l'auto che ha travolto una famiglia veneziana in vacanza tre morti un bambino di due anni il papà la nonna la mamma è ferita la guidatrice arrestata il cellulare sequestrato e poi ancora particolari andava 160 all'ora quando è scesa inveiva contro i corpi a terra delle vittime la denuncia qui corrono come matti l'Italotella Riviera e qui siamo a Fiesso d'Artico finisce nel sangue un trentenne accoltellato al torace è grave una notizia arrivata poco poco fa Leonardo Maria del Vecchio pronto a sposare Michelle la proposta di matrimonio in barca e poi ancora notizie minori andiamo in pubblicità con i nostri due registi Tony Esposito e Francesca Pezzo a tra poco state con noi di nuovo con Focos TG l'uscita di quattro saggi dalla commissione Cassese quattro dei 61 saggi che stanno valutando i livelli essenziali di prestazione i famosi LEP per la riforma dell'autonomia è stata interpretata dal ministro Calderoli e da Luca Zaia come un attacco proprio a questa riforma un attacco deliberato da parte del centro sinistra sentiamo anche la reazione del professor Mario Bertolissi costituzionalista che fa parte della delegazione trattante vediamo sto aspettando da 50 anni che si faccia quello che è previsto nel titolo quinto della costituzione ecco e che si faccia da 22 anni quello che è stato previsto a partire dal 2001 nelle sue parole ci sono amarezza e stanchezza ma non certo voglia di arrendersi anzi di rilanciare e contrattaccare perché per il professor Mario Bertolissi uno dei saggi individuati dal ministro Calderoli per comporre il comitato di individuazione dei LEP le dimissioni dei suoi quattro illustri colleghi Giuliano Amato Franco Bassanini Franco Gallo e Alessandro Paino sono una contraddizione bella e buona Calderoli parla di una polemica montata ad arte e di matrice politica quasi un ordine di scuderia da parte di Elishlein Bertolissi si limita a ricordare che fu proprio il centro-sinistra nel 2001 ad approvare la modifica del titolo quinto della Costituzione introducendo fra l'altro nell'articolo 117 proprio l'individuazione dei LEP coloro che adesso criticano quando si sta facendo sono stati al governo per lungo lunghissimo tempo e oltretutto hanno ricoperto delle cariche di altissimo profilo nell'ambito della Repubblica sono stati parlamentari ministri giudici presidenti della Corte Costituzionale giudici e presidenti del Consiglio di Stato la domanda è ma fino adesso dove stavano? Io resto corrente con le mie idee continua al di là delle appartenenze politiche e pone idealmente un fuoco di fila di domande ai dimissionari adesso che si deve di per sé fissare i LEP con riferimento alle 23 materie si vorrebbe che si facesse tutto non una parte soltanto ma tutto perché si dice se non si vede tutto allora non si possono prendere decisioni potevate farlo perché non l'avete fatto perché si deve fare tutto quando in realtà stiamo parlando dell'autonomia differenziata che di per sé pone il problema soltanto per una parte adesso si dice incostituzionale scusi ma l'incostituzionalità la dichiarerà la Corte Costituzionale oppure ci sono alcuni che hanno il potere di stabilire se è conforme a Costituzione oppure no se è incostituzionale non entra nella Commissione e la chiosa finale è dedicata al grande economista e Presidente della Repubblica Luigi Einaudi ricordando un suo testo sulla giustizia tributaria nelle prime pagine Einaudi se la prende con i dottrinari dice che sono dottrinari quelli che si riferisce proprio ai professori universitari oltretutto che avendo in mente la giustizia in assoluto trascurano la giustizia grezza quella cioè concreta che risolve i problemi della quotidianità del cittadino L'esasperazione comprensibile del professor Bertolissi ha oltre 5 anni dal referendum in cui 2 milioni e 400 mila veneti hanno detto di sì alla riforma dell'autonomia la si vuole ovviamente bloccare si tirano fuori questioni di lana caprina il Partito Democratico ha presentato diversi emendamenti sentiamo in diretta da Padova Francesco Ratai si buongiorno da Padova siamo nella sede regionale del Partito Democratico come il segretario regionale del Partito siamo qui per parlare di autonomia perché sono emerse le proposte e gli emendamenti che il Partito Democratico ha presentato al decreto legge segretario Martella quali sono le vostre proposte i nostri emendamenti innanzitutto delineano un testo alternativo a quello di Calderoli per un'autonomia equilibrata cooperativa che non divide il Paese e che sia in grado di fornire a tutto il Paese una visione e una possibilità di riconoscersi e abbiamo presentato degli emendamenti che vanno sostanzialmente in tre fondamentali direzioni la prima non è possibile realizzare l'autonomia su tutte le materie anzi il titolo quinto della Costituzione andrebbe rivisto e faremmo bene a concentrarci su alcune materie fondamentali sulle quali davvero si può realizzare l'autonomia la seconda cosa il Parlamento deve essere soggetto protagonista di tutto questo lavoro sia nella fase di confronto che di negoziazione che di approvazione delle intese con le Regioni in terzo luogo il nodo delle risorse finanziarie non si fanno riforme a costo zero è necessario definire i LEP e cioè quei livelli essenziali delle prestazioni che definiscono l'uguaglianza dei cittadini in tutto il nostro Paese sono preoccupazioni emerse nel corso di questo periodo anche nella fase delle audizioni e molte di queste le abbiamo raccolte con l'idea appunto di metterci seriamente un torno a un tavolo per migliorare questo testo non c'è una volontà ostruzionistica ma c'è una volontà di correggere un impianto quello di Calderoli che sembrano stare in piedi e che sembra essere così realizzato solo per produrre propaganda ecco saranno 557 gli emendamenti presentati da tutti i gruppi presenti in Parlamento sono oltre 189 gli emendamenti presentati dal Partito Democratico lo diceva il segretario non c'è la volontà di essere di fare ostruzionismo ma di cambiare una riforma che a voi comunque non piace sono tutti emendamenti di merito su questioni molto precise che prima ho delineato e anche su altri che andranno discusse e quindi che non sono il frutto di una volontà come ho detto ostruzionistica c'è un'idea di fondo l'autonomia è possibile realizzarla noi siamo per poterla realizzare ma siamo di fronte ad un disegno di legge che così come ho detto non sta in piedi innanzitutto perché non ci sono le risorse finanziarie in questo testo si parla di invarianza finanziaria ma la definizione dei LEP produce evidentemente dei costi la definizione di un fondo di perequazione anche ed è per questa ragione che le risorse finanziarie sono necessarie lo hanno detto i quattro esperti che si sono dimessi dal comitato che dovrebbe definire i LEP e hanno posto questo tema delle risorse finanziarie al centro adesso non è possibile che Calderoli Zaria o gli altri alzino le spalle come se nulla fosse dovrebbero affrontare nel merito questa discussione come sta cercando di fare il Partito Democratico ecco ringraziamo il segretario del Partito Democratico Veneto restituisco la linea allo studio grazie molte grazie a Francesco Arattai e ad Andrea Martella il Partito Democratico non è contro l'autonomia ma è contro questa riforma dell'autonomia e propone propone un'alternativa così ha detto ha detto l'onorevole Martella primo giorno di saldi nel Trevigiano ieri dove però la principale preoccupazione tra i consumatori resta quella di riempire il carrello della spesa con i prezzi schizzati verso l'alto in maniera davvero straordinariamente grave vediamo cosa dicono i cittadini a Christian Arboit dappertutto anche oggi ho guardato gli yogurt e ho aumentato i 20 centesimi e è tanto secondo me su un yogurt 20 centesimi dopo una settimana è tanto quindi non c'è spazio per i saldi no esatto no purtroppo no adesso per vivere è diventato un lusso per vivere prendere il necessario perché si visti i prezzi si vende necessario in questo momento alimentare neanche le vacanze per cui sì è già tanto fare la spesa prima di pensare i saldi le dice meglio concentrarsi sulla spesa tutti i figli meglio pensare alla spesa meglio il carrello pieno piuttosto che che spenderli in saldi che tutto sommato dopo non c'è tutta sta convenienza questa è la filosofia di tanti trevigiani nel primo giorno di saldi prima la spesa alimentare poi tutto il resto in tempi di caro carrello è questione di priorità se c'è chi esclude uscite extra altri fatta appunto la spesa sono possibilisti o attendisti ma forse sì ci penso ho qualcosa da comprare sicuramente ho qualcosa da comprare poi se ce l'ho fermo meglio meglio ancora c'è solo il 30% aspetto il 50% ci sono poi gli irriducibili che proprio in queste ore hanno iniziato i primi giri di perlustrazione per loro idee chiare e obiettivi precisi l'abbigliamento via li ha conosci i pressi tante cose meglio fare qualche giro di perlustrazione appunto l'abbigliamento e calzature e borse cose che possono servire assolutamente sì 30-50 dopo so che c'è anche il 70 perché non provare se si trova qualcosa perché giustamente bisogna andare all'inizio saldo sì aspetto la busta paga poi probabilmente farò un rinnovo drastico quindi su 300 direi quindi calzatura abbigliamento che fa t-shirt pantaloni jeans camice io sono appassionata a calzature e borse sì e quindi mira sì devo prendermi un'altra scarpiera però 30-50% ancora meglio se è il 50% però le cose belle le scontano poco calzature ha già adocchiato qualcosa sì e quindi è disposto a spendere fino a quanto? 100 euro quindi 100 euro per i saldi questo è il budget sì bocca al lupo grazie andiamo a Vicenza adesso perché i commercianti di Piazza Matteotti e dei dintorni sono contrari al parcheggio ci racconta tutto in diretta Carlo Alberto Inghilleri buongiorno buongiorno a tutti i telespettatori dalla centralissima piazza Matteotti di Vicenza una piazza storica pensate che qui sfocia Corso Palladio che è la via principale del centro storico di Vicenza alle nostre spalle c'è lo storico monumentale Palazzo Chiericati e poco più indietro lo vedete sullo sfondo il teatro olimpico che non ha bisogno certo di presentazioni ebbene in questa piazza però c'è un problema c'è un parcheggio che vedete qui proprio dietro di me e i commercianti chiedono che venga spostato il progetto c'è 70 metri poco più in là c'è l'ex macello una struttura fatiscente che sta cadendo a pezzi anche per motivi di sicurezza sarebbe bene riqualificarlo e il progetto appunto c'è trasformarlo in un parcheggio e quindi accogliere lì le auto che si trovano qui dietro di noi liberando la piazza e pedonalizzandola in questo modo anche le attività commerciali possono prosperare e vengono valorizzati i monumenti che vi ho appena descritto con me c'è in rappresentanza dei commercianti di piazza Matteotti Loris Azzolin che ci spiega perché stanno facendo fronte comune per spostare il parcheggio e trasformare l'ex macello in un parcheggio semplicemente perché sono anni che se ne parla e siccome c'è già il progetto è già pronto penso che sia l'occasione perfetta per completare questa meravigliosa opera insomma quindi chiediamo semplicemente che venga fatta in fretta possibile e se non deve essere fatta ci devono spiegare perché non deve essere fatta in realtà il sindaco il nuovo sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha chiesto una pausa di riflessione vuole rivalutare questo progetto all'ex macello dice potremmo fare anche dell'altro però in questo modo non verrebbe più spostato il parcheggio di piazza Matteotti proprio lì in quella struttura fatiscente l'ex macello che tra l'altro bisogna sbrigarsi perché rischia di crollare infatti quindi no io penso che dopo tutti questi anni dopo tante chiacchiere dopo tanti discorsi penso che sia arrivato il momento di concludere credo anche che dopo tanti vari studi che sono stati fatti penso che sia anche la soluzione diciamo più logica visto che l'ex macello sta cadendo questa è un'area in questo momento molto disordinata visto anche il contesto meraviglioso in cui ci troviamo penso che fare un po' di ordine anche e di creare finalmente una bomboniera perché merita di essere considerata dal teatro olimpico fino diciamo alla parte finale dello stadio menti che è un altro luogo diciamo sacro per il popolo vicentino penso che sia anche giusto avere delle risposte immediate subito ecco ecco lei si è confrontato con gli altri commercianti con gli altri negozianti della piazza state facendo fronte comune ma ci siamo confrontati abbiamo parlato abbiamo più o meno la stessa idea ma poi ci sono anche dei voti amministrativi che parlano chiaro cioè quasi tutti sono consapevoli e sono d'accordo nel fatto che tenere un parcheggio vicino a un monumento così importante ormai penso che sia una cosa quasi anacronistica bene allora guardi la telecamera e lanci questo appello questo messaggio al nuovo sindaco di Vicenza Giacomo Possamai sì io saluto il nuovo sindaco gli auguro un buon lavoro e mi auguro veramente di cuore che nei prossimi giorni possa chiarire questa cosa finalmente e lo capisco perfettamente perché si è appena insediato quindi è giusto che valuti e rifletti su certe cose visto che si è trovato chiaramente però questo è un progetto meraviglioso bellissimo io penso che debba essere portato avanti bene questo è l'appello che noi giriamo al nuovo sindaco di Vicenza io direi che da piazza Matteotti per il momento è tutto ovviamente ci torneremo continueremo a seguirvi ringrazio Loris Azzolina e restituisco la linea allo studio grazie grazie Carlo Alberto Ghilleri che è il responsabile della nostra redazione Vicentina andiamo a Padova dove si stanno intensificando i lavori per la realizzazione del SIR 3 e cioè la seconda linea del tram che dovrebbe collegare Volta Barozzo alla stazione di Padova sentiamo ancora Francesco Rattai ci troviamo all'incrocio tra via Ospedale Civile e via Giustiniani la rotonda che caratterizzava questo incrocio non c'è più ci sono solo dei New Jersey che la delimitano ma la struttura è stata rimossa quella rotonda è stata eliminata quella di via San Massimo da un punto di vista strutturale rimane come rotonda con i New Jersey questo perché da fine mese a fine luglio l'area sarà interessata da un cantiere relativo ai sottoservizi del gas ci sarà lo spostamento di sottoservizi funzionale al tram e quindi durante quella fase di lavoro la rotonda verrà eliminata e ci sarà un normali due corsie in finiti lavori tornerà la rotonda con i New Jersey fino ai lavori definitivi del tram che poi arriveranno nei prossimi mesi sono iniziati anche i lavori per la realizzazione del capolinea del tram a volta a Barozzo gettate le fondamenta per la realizzazione della struttura che accoglierà i mezzi della nuova linea diciamo che per questi mesi noi avremo soprattutto molti cantieri relativi ai sottoservizi che insisteranno nell'area Sografi Forcellini e la parte del tram la vedremo la vedremo più sulla passeggiata dove ricordo rimarrà comunque sempre una ciclabile quindi sempre transitabile sia per ciclisti e pedoni dove verranno piantumati a fine dei lavori moltissimi nuovi alberi e moltissimi nuovi arbusti i lavori per i sottoservizi procedono intanto è stata chiusa anche via San Massimo la prossima settimana riaprirà oltre ai lavori per la nuova linea in quest'estate di cantieri ci sono anche manutenzioni da fare il tram infatti resterà in garage dal 17 luglio al 20 agosto al suo posto autobus sostitutivi intanto è stata fatta esplodere in sicurezza è stata fatta brillare la seconda la bomba della seconda guerra mondiale che era stata ritrovata sull'argine del Brenta a Vigo d'Arzere vediamo sono le 9 quando Vigo d'Arzere dopo averlo interrato in un terreno autorizzato nelle vicinanze del luogo del ritrovamento gli artificieri del genio guastatori paracadutisti folgore hanno fatto esplodere questa bomba della seconda guerra mondiale l'ordigno una bomba a mano difensiva a frattura prestabilita Sipe ancora inesplosa era stato notato lunedì pomeriggio da alcuni passanti che l'avevano visto affiorare dal terreno l'area era stata subito recintata un intervento eseguito nella massima sicurezza grazie alla collaborazione della protezione civile comunale e della croce rossa che è reso possibile da metà mattina la riapertura dell'argine del Brenta dalla Certosa fino a Saletto e parliamo di sanità a questo punto perché sala operatoria solo a giorni alterni causa medici che sarebbero sotto organico e quindi saltano gli interventi programmati e ne è saltato uno questa è la denuncia della figlia di una 83enne di mestre servizio di Anna Maria a Parisi mia mamma ha avuto il giorno 20 a casa una caduta e quindi una doppia frattura entrambe le anche fino ad oggi stiamo aspettando l'intervento per la frattura scomposta la mamma di Arsine è una signora disabile di 83 anni con diverse fragilità una malattia autoimmune del sangue due protese le anche ed ora anche la doppia frattura scomposta all'angelo di Mestre attende di essere operata dal giorno del ricovero cioè dallo scorso 20 giugno intervento programmato dal 5 luglio per il giorno 6 ma poi annullato perché mancherebbe la disponibilità della sala operatoria perché è la stessa figlia Arsine a raccontarlo dopo aver ricevuto la telefonata del medico in questo caso siamo tutti nella stessa barca noi come pazienti e loro come operatori che hanno difficoltà a lavorare a essere messi nelle condizioni di lavorare veramente perché mi dicevano che la sala operatoria non è sempre disponibile è disponibile per mezza giornata a giorni alterni che sono in sottorganico Arsine sostiene di parlare non soltanto tutela della mamma e dei pazienti in generale dice ma si farebbe l'attore anche dei medici che anzi a suo dire l'avrebbero esortata a rendere pubblico il loro malcontento un altro medico che mi ha veramente esortata a denunciare questa situazione mi si stava dicendo anche che se poi ci sono delle urgenze perché comunque è un periodo estivo ci sono traumi ci sono incidenti per cui ci sono delle urgenze le sale operatorie vengono occupate per questo anche operazioni di una certa priorità subiscono un ritardo e quindi siamo in lista d'attesa ebbene vedo il collasso dappertutto questa è un'esperienza che tutti noi stiamo vivendo sulla nostra pelle dai medici di base dai pediatri dalle lungaggini per quanto riguarda le analisi e questo veramente è un grido non perché la mia situazione è così ma perché siamo tutti coinvolti ci stanno togliendo il diritto alla cura il diritto alla salute la dignità della persona e non dobbiamo essere soli in questo momento che già di per sé è molto difficile e la Ulstra è serenissima su questo caso da noi contattata ha risposto che l'83enne signora viene operata oggi nel giorno che era stato fissato in generale va ricordato dice l'Ulstra che l'ospedale dell'Angelo è centro di riferimento provinciale per traumatologia giungono sull'Angelo persone ferite di tutti i più gravi ferite nei più gravi incidenti da tutto il territorio può accadere continua la nota dell'Ulstra che una situazione di emergenza in cui si è in ballo la vita di persone arrivate in urgenza impegni e anche a lungo sale ed equip operatorie in questo caso è inevitabile che si riprogrammino alcuni degli interventi che sono stati previsti andiamo in pubblicità un minuto e poi torniamo ancora con Focus TG state con noi la carenza dei medici all'Ulstra 2 ne mancano 100 ma quelli che rimangono comunque devono anche andare in ferie ce ne parla Francesco Benazzi il direttore dell'Ulstra 2 che dice ci saranno accorpamenti ma nessuna chiusura non chiudiamo niente come voi sapete accorpiamo nel senso che abbiamo i nostri operatori che vengono da due anni e mezzo di Covid e che comunque sono bravissimi hanno bisogno di rilassarsi e fare almeno 15 giorni di ferie lo facciamo ogni anno per garantire queste ferie stiamo ovviamente riducendo i posti letto e qualche volta anche accorpando ciò non significa chiusura scatta il piano ferie all'Ulstra 2 marca Trevigiana il primo dopo anni caratterizzati dalla regime Covid un ritorno alla normalità che consente di accorpare quei reparti simbolo dell'emergenza noi stiamo in qualche modo cercando di accorpare l'area che sicuramente d'inverno si espande che sono le aree mediche quindi dalle lungogenze geriatrie e medicina perché durante l'inverno come sapete i fattori virali l'influenza e altre patologie virali portano le persone fragili come dicevamo prima ad essere ricoverate chiaro che il problema di fondo ovvero la carenza di personale resti anche se le prospettive sembrano meno nere della recente passato parliamo sempre dell'ordine di un centinaio di medici sostanzialmente che contiamo di recuperare tutti a fine del 2024 medici di base la stessa cosa lo abbiamo detto più volte oggi si stanno ripopolando come vedete abbiamo sempre meno zone carenti e soprattutto abbiamo sempre di più titolari che è importante anche là a fine del 2024 la scuola ne specializza diversi per cui le problematiche che oggi abbiamo sicuramente pian piano si risolveranno in particolare mancano ginecologi dice Benazzi guardando soprattutto il ripristino del punto nascite di Vittorio Veneto dove è invece imminente il bando per la chirurgia maxillofacciale in attesa delle nuove risorse si guarda anche al contenitore e questa sarà un'estate cruciale per la sanità della marca entro un mese a Treviso dovrebbe essere operativa la nuova cittadella della salute i nostri collaudatori stanno appunto facendo il bisticcio del termine stanno facendo i collaudi noi speriamo e contiamo che il 15 di luglio i collaudi siano finiti per cui poi entriamo poi vi sapremo dire la data intendiamo partire ovviamente con le chirurgie quindi con le sale operatorie e le degenze di chirurgia penso che il fine luglio sia la data corretta nelle scorse ore invece sopra luogo per il nuovo ospedale di Conegliano operazione da 50 milioni di euro voluta dallo stesso presidente Luca Zaia la posa della prima pietra è fissata comunque sarà sicuramente entro l'estate considerato che l'estate finisce il 21 settembre è l'attesissimo concerto a Venezia anzi a Mestre al San Giuliano dei pinguini tattici nucleari 60 mila persone sono attese già esauriti tutti i parcheggi a pagamento su prenotazione sentiamo Ilaria Marchiori si tratta del primo tour del gruppo negli stadi che partirà proprio da Mestre con la data zero qualche anticipazione spoiler per i più moderni arriva proprio da uno dei musicisti arrivati alcuni giorni fa per le prove Riccardo Zanotti autore del gruppo è una roba incredibile solo guardarlo mi mette paura ma anche eccitazione anche vista mobilitata la macchina della sicurezza la città è in fermento soprattutto dal punto di vista organizzativo affidato a vela il sindaco ha firmato un'ordinanza dalle ore 12 di venerdì alle 3 di sabato sarà vietata nell'area del concerto la somministrazione e la vendita di super alcolici l'introduzione di bottiglie in vetro o plastica con tappo e lattine vietati anche i cosiddetti spray al peperoncino o sostanze sintetiche che producono gli stessi effetti già esauriti tutti i parcheggi a pagamento su prenotazione nel sito del comune è possibile trovare tutte le 7 aree di sosta per quasi 7000 posti auto e sarà possibile anche prenotare il parcheggio online quasi 80 volontari della protezione civile impiegati per fare in modo che l'afflusso delle persone sia il migliore possibile naturalmente ci sarà anche un bici park totalmente gratuito quindi un invito ad arrivare in bici o a piedi al parco e dei parcheggi più distanti invece ci sarà un bus navetto disposto anche lo stop a ogni forma di commercio e somministrazione itinerante e anche artigiana all'interno del perimetro eventuali violazioni saranno passibili di sanzione pecuniaria tra i 25 e i 500 euro e della confisca dei contenitori e degli oggetti vietati speriando che sia una buona serata e che tutti i cittadini e tutte le persone che verranno al parco San Giuliano venerdì sera possono godersi una buona musica e stare in compagnia e vediamo a casa Marani di Villorba l'incontro di Villorba l'incontro tra gli anziani e degli ospiti colorati e molto anche ciarlieri pappagalli vediamo nasoli in su e tanto stupore a casa Marani dove gli ospiti sono stati intrattenuti da tre simpatici amici dalle piume colorate portati dall'associazione vogliamo esagerare l'associazione si occupa anche di questo di raccogliere pappagalli in difficoltà per poi riabilitarli e portarli così a fare queste attività ludico-ricreative per far gioire le persone per qualche ora dopo racconto su vite abitudini dei pappagalli Axel, Pixel e Maya si sono prestati a interagire con gli anziani volando da una spalla all'altra e ballando a ritmo di battimano dei residenti casa Marani cerca sempre di attivare nuove soluzioni per poter accompagnare gli ospiti nelle loro giornate che spesso sono lunghe attività ludico-ricreative che la struttura offre agli anziani che portano non solo un momento di gioia e di svago all'interno della residenza ma che agiscono anche sul benessere fisico e psicologico degli ospiti per gli anziani il beneficio è sicuramente sia fisico e psicologico lavoriamo moltissimo sul benessere perché apportiamo comunque buon umore perché il semplice fatto di vederli come in questo caso ci dà buon umore ci dà un'occasione di socializzazione in ambiti cui spesso c'è anche un problema di isolamento della persona quindi noi creiamo se siamo nell'ambito ludico-ricreativo creiamo dei momenti di socializzazione di benessere di piacere di divertimento l'incontro con i pappagalli è solo un anteprima di un progetto più ampio che verrà attivato a Casa Marani di Villorba con l'associazione e che prevede laboratori di attività manuale o di memoria attraverso vari giochi in compagnia dei colorati volatili ad accompagnare i residenti in questo periodo di attività ludiche e di pet therapy anche Nicolò e Alessandro alcuni di loro veramente sono molto felici penso che non abbiano mai visto dei pappagalli o comunque non abbiano mai fatto un'attività del genere fino ad ora anche per me è un'attività nuova non sono mai stato a contatto così vicino con dei pappagalli ho anche scoperto delle notizie nuove per me diciamo su di loro e secondo me anche loro si stanno divertendo molto sono importanti per magari anche nelle persone dementi aiutano perché dove non c'è tanto la parola magari il contatto i cani trasmettono e anche i pappagalli possono trasmettere molte emozioni è davvero importante la pet therapy che si tratti di cani di cavalli di altri animali i risultati sono sono stati riscontrati in questi in questi anni sono risultati importanti chiudiamo qui questa edizione di Focus TG grazie per averci seguito buona giornata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.